Siamo pronti, ringraziamo le varie persone che sono venute qua. Una bella giornata estiva, fa caldo, si sta bene. Ringraziamo anche le varie brave persone che sono arrivate all'esterno, sono entrati tutti quanti. Una bella giornata, grazie a Dio. E poi vediamo tra un po', abbiamo già fatto la lettura della parola e ci sono delle persone all'interno che stanno lavando, sistemando. Noi li ringraziamo, c'è anche Franco e Massimo qui, benissimo. E ringraziamo Eli che sta lavando i piatti di là, grazie. E poi ci abbiamo i nostri bravi ragazzi qua. Tra un po' ci sarà di nuovo la lettura della parola e poi vediamo come si può sistemare le varie persone con il lavoro.